buongiorno e benvenuti o bentornati sul mio canale io sono simona e questo è il mio canale il filo della principiante il luogo in cui parlo dei miei lavori con con i filati ma anche di tutte le mie passioni che sono legate da un unico filo partiamo con i progetti terminati ho terminato la scott fatta con il filato rowan di cammello e devo dire che tiene veramente caldissimo è molto molto semplice molto discreta quindi si può portare anche in questa stagione è veramente molto molto semplice da realizzare in quanto è tutta maglia tutta maglia legaccio e con solo il bordo i cord ora da brava principiante quando ho sentito che si poteva fare un i cord per me era qualcosa di impossibile invece devo dire che è veramente di una semplicità unica in pratica si tira il filo in avanti e si passano le tre maglie le ultime tre maglie senza senza lavorarle quindi è veramente molto semplice però non so se si riesce a vedere realizza questo questo bordino molto ben definito e devo dire che che mi piace molto specialmente per un oggetto come questo che si vede subito se il bordo non è ben ben rifinito e ho impiegato più tempo di quello che avrei pensato nel realizzarlo ma probabilmente la mia inesperienza mi rende anche molto molto lenta però sono comunque soddisfatta del risultato e e penso che forse ne farò anche un'altra però pensavo di realizzarla in cotone in qualcosa di un po più leggero che forse questo filato di cammello per questa stagione è ancora un po troppo troppo caldo comunque vedremo tra i prossimi progetti ma appunto a me piace principiare le cose e quindi probabilmente la inizierò tra i progetti che invece sto portando avanti c'è il cardoon di isabel kramer che sto realizzando insieme al gruppo delle tester che trovate su facebook vi avevo già fatto vedere i filati che erano un alpaca di varie varie colorazioni adesso vi faccio vedere più o meno dove sono arrivata ho finito la parte del dello sprone quindi è visibile il il disegno come vedete avevo scelto di realizzarlo con tre sfumature di colore una molto più chiara più scura fino ancora più a scurire e devo dire che l'effetto complessivo mi piace mi piace mi piace molto difficoltà a lavorare il ferail no difficoltà a portare in giro questo progetto sì perché comunque dovevo sempre guardare lo schema di riferimento per i cambi di colore e quindi diventava un po impegnativo portarlo portarlo fuori ora sono arrivata appunto a breve dividerò le maniche dal resto del corpo comunque per ora poi scende giù tutto a maglia rasata quindi penso che ora diventerà un progetto per me portabile anche anche in giro e quindi forse riuscirò a progredire più rapidamente di come sono andata finora e il call appunto questo qui lo stiamo realizzando insieme con il gruppo delle delle tester ci si riunisce una volta a settimana per lavorare insieme su una stanza di di facebook e devo dire che è sempre un piacere poi stare con con le altre e a chiacchierare e sperruzzare insieme e in questo periodo sono riuscita a essere poco presente causa stanchezza e impegni lavorativi però devo dire che quando ci riesco sono sempre molto molto felice di partecipare quindi invito chiunque abbia voglia di sperruzzare insieme agli altri sperruzzare e chiacchierare con gli altri ad unirsi al a questo call che è ancora in corso e terminerà se non ricordo male a fine novembre quando invece poi partirà un altro call che sarà per il calendario dell'avvento e questo sarà un misteri quindi non so bene quale sarà il progetto che andremo a realizzare il lo schema è realizzato da vicky aquilino e antonia dusman quindi è un progetto un progetto a due l'unica cosa che per ora si sa di questo misteri cal cal calendario sono i colori e dark home yarn di francesco rosa ha realizzato quattro kit diversi chiamati con con i quattro elementi quindi abbiamo il kit terra fuoco aria e acqua io ho scelto il mio kit me lo sono fatto mandare da da francesco rosa dark home yarn e devo dire che sono molto molto contenta del della mia scelta sicuramente erano bellissimi anche gli altri però ne sceglievo uno e quindi ho scelto quello che pensavo essere più adatto al mio tipo di abbigliamento quindi che potevo poi giocarmi meglio insieme alle altre cose che di solito indosso ho scelto il kit terra che si compone di quattro colori questo che vedete un po grigio cerco di metterlo un pochino meglio chissà è invece un verde foresta con delle punte un pochino più più chiare questo invece ha dei toni di marroncino dei toni di giallo qualche speckle arancione e veramente anche questo molto molto bello ci sono anche delle puntine di un lilla è veramente molto bella tra l'altro questa questa lana è veramente morbidissima è bellissima al tatto a me dispiace toglierla dalle matasse per fare i gomitoli perché la trovo veramente bellissima anche questa sui toni di marrone con degli speckle fucsia verdi aranciati quindi sono colori non questi non sono colori compatti solidi ma sono appunto molto mescolati e infine abbiamo questo che è una sorta di salmone direi che lo vedete molto più giallo di quello che invece poi è in realtà cosa ne verrà fuori non lo so e lavoreremo insieme con vicky aquilino e antonia dusman per quattro settimane le quattro settimane del dell'avvento e immagino che ogni settimana uscirà un indizio qualcosa che che si farà e sono veramente molto molto curiosa al momento sono anche contenta dell'acquisto fatto quindi veramente volevo provarli da un po il i filati di dark home yarn questa è la merino plus tra l'altro francesco mi ha inviato anche un piccolo campione della dynasty e in questo color verde più verde muschio verde militare anche questo molto molto bello e prima o poi proverò anche il filato yak perché è un altro dei filati che mi che mi incuriosisce questo è un piccolo campione vediamo un po quanto me ne potrebbe servire lo userò per fare un campione di prova per avere un'idea di quanto acquistarne per per fare per realizzare un progetto quindi grazie a vicky aquilino grazie antonia dusman e grazie a francesco rosa per questa nuova opportunità di scoprire filati nuovi lavorazione nuova e soprattutto per lavorare in compagnia perché appunto la maglia l'uncinetto e questi lavori manuali hanno anche questa dimensione sociale è vero che li facciamo da soli che ognuno di noi può lavorare da solo però è anche bello condividere idee riflessioni e ispirazioni con gli altri e ora passiamo ai libri questa volta non parlerò di un solo libro ma parlerò di due libri sono molto molto piccolini entrambi e quindi non non occupavano così tanto così tanto tempo e il primo da cui vorrei partire questo libro per per bambini che si intitola leave me alone tra l'altro è vincitore anche del del premio caldelcott caldelcott che appunto un premio dedicato come potete vedere qui nella sovra copertina del mio del mio volume è un premio dedicato agli autori di libri per bambini ora negli ultimi negli ultimi anni i libri per bambini hanno avuto uno sviluppo veramente importante sono sicuramente sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista narrativo molto più variegati rispetto a quelli che erano nella mia epoca quindi alle solite storie per quanto bellissime per quanto ancora evocative e se vogliamo anche istruttive però appunto erano le classiche fiabbe quelle che poi anche disney rilegge spesso e volentieri invece c'è anche tutto un grande filone di produzione per per bambini che non ha nulla da invidiare alla produzione per adulti perché vi parlo di questo libro perché appunto la protagonista è una nonna che ha una grandissima grandissima famiglia quindi ha tantissimi figli nipoti e persone che che girano per casa e lei ama lavorare a maglia ama lavorare a maglia comincia comincia a fare freddo arriva l'inverno e lei vorrebbe realizzare una serie di di maglioni e oggetti appunto per tenere calda tutta tutta la famiglia e solo che appunto i bambini sono tanti fanno fanno troppa confusione e quindi lei dice leave me alone lasciatemi sola cioè lasciatemi il tempo per per lavorare e mi veniva un pochino da ridere perché appunto prima parlavo del fatto che ci piace lavorare a maglia lavorare insieme condividere questa passione però è vero che ci sono dei momenti ecco per esempio come mi è capitato con lo schema del ferail che invece si ha bisogno di stare da soli concentrati quindi tutto ciò che ci crea disturbo è fastidioso estremamente fastidioso e quindi ci verrebbe da urlare lasciatemi sola a lavorare con i miei ferri oppure anche se non sono lavori impegnativi a volte abbiamo proprio bisogno di fermarci un momento da sole con noi stesse di sentirci e quindi lavorare in solitudine quindi questa nonna fugge via scappa via di casa e va in una foresta però gli orsi sono curiosi e quindi si si avvicinano per cercare di capire che cosa sta che cosa sta facendo con questi fili perché appunto i gomitoli di fili creano curiosità creano curiosità un po' a tutti sarà capitato a ognuno di noi di lavorare magari in presenza di altre persone che non lavorano a maglia non lavorano ad uncinetto e si trovano degli sguardi che guardano che da una parte è anche una cosa piacevole perché non stanno guardando per giudicare ma stanno guardando per per curiosità e dall'altra parte un pochino ci imbarazza quindi la nonna scappa da anche dalla foresta e va su una montagna innevata però anche lì incontra delle capre che incuriosite si avvicinano a lei per cercare di capire che cosa fa vogliono giocare anche loro con in questi gomitoli che che rotolano quindi va ancora più in alto più in alto della montagna e finisce sulla luna in cui addirittura incontra degli alieni degli alieni che vorrebbero capire che la fotografano che cercano di capire che cosa sono questi questi filati alla fine la nonna si allontana ancora di più finisce in un alla fine va in un buco nero nel buco nero c'è il silenzio assoluto quindi è sola lavora lavora tutti i suoi i suoi capi lavora tutta la sua pila di maglioni e una volta che ha finito di lavorare tutto ritorna con il suo sacco che invece di essere pieno di gomitoli a questo punto è pieno di di prodotti finiti quindi di capi d'abbigliamento finite e torna a casa facendo la gioia di tutti i bambini e come avrete potuto vedere da alcune delle immagini che vi ho fatto vedere graficamente molto molto vario quindi è uno stimolo non solo appunto narrativo ma è uno stimolo anche visivo per per i bambini e questa è un po la caratteristica dei dei libri contemporanei dedicati a un pubblico più piccolino e mi è piaciuto sì ovviamente è una storia per bambini quindi non non si ricerca in questi testi una complessità di chissà quale tipo però a me è piaciuta soprattutto l'idea di parlare della maglia un po la domanda che mi faccio è ma ancora oggi i nostri i bambini di oggi vedono ancora lavorare le famose nonne quelle da cui un po tutti quanti hanno imparato a lavorare a maglia o all'uncinetto a ricamare ma le vedono ancora così tanto cioè le nonne di oggi quindi immaginiamo le persone intorno ai 60 anni lavorano ancora così frequentemente a maglia o si dedicano al ricamo all'uncinetto a qualunque arte con il filo questa è un po una domanda che che mi facevo perché parlando con i ragazzi della mia scuola ogni tanto che è capitato loro sono sono adolescenti e non hanno poi tutta questa grande opportunità di vedere qualcuno che realizza qualcosa con le loro mani e quindi un po questa idea di trasmettere questo immaginario anche alle giovani generazioni mi sembrava interessante e carina da condividere l'altro testo di cui volevo parlare invece è un è un libro di modelli l'autrice georgia farrell e il testo si chiama abstract e avevo visto che usciva questo questo libricino che usciva in inglese e l'altro giorno andando in una delle delle mercerie qui della mia della mia città ho visto che c'era la copia in in italiano quindi ho deciso che invece di acquistarlo in inglese anche se non era un problema e di prenderlo in italiano è pubblicato dalla dalla rowan quindi anche i filati utilizzati sono i filati della della rowan questo potrebbe essere un altro elemento di discussione e acquisto in rete acquisto in rete libri acquisto in rete filati acquisto in rete moltissimi oggetti però è vero che quando c'è nella mia città un rivenditore di questi di questi articoli cerco per quanto possibile certo anche rispettando il costo se il costo è troppo differente ci si fa un pensiero in più però se il costo è più o meno lo stesso anche se fosse qualcosa in più preferisco acquistare nei negozi della della mia città e perché perché credo che sia perché mi piace l'idea che questi negozi sopravvivano che di poter uscire fare una passeggiata e acquistare quegli oggetti perché perché li vedo perché li osservo sulla vetrina quindi diventa anche un modo per condividerlo con gli altri abitanti della mia città quindi spesso se diciamo il costo non è troppo troppo diverso un conto se il costo raddoppia però un conto se c'è la differenza di 1 2 euro se posso acquisto nella nella mia città in modo di dare anche agli altri la possibilità di entrare in contatto con le cose che che mi piacciono quindi in particolare con con i libri con i filati penso anche con con i lego se ho questa possibilità scelgo di acquistarli nel nel negozio fisico della della mia città appunto perché credo che sia un modo per aiutare i concittadini ad avere anche loro questa possibilità e non essere costretti ad acquistare sempre tutto online e ciò non vuol dire io non acquisto online anzi tutt'altro è solo appunto che mi sento di avere questa attenzione mi andava appunto di parlarne con voi se anche voi condividete questa questa riflessione quindi torniamo ad abstract allora io georgia farrell l'ho vista in un'intervista su fruit knitting un canale appunto in inglese in cui si parla di maglia e ogni episodio intervistano un designer o qualcuno che comunque si occupa di filati o si occupa di di maglia di capi di maglia e mi aveva affascinato molto che cosa mi aveva affascinato mi aveva affascinato le sue fonti di ispirazione allora le sue fonti di ispirazione so è l'architettura ma non l'architettura quella quella classica quella diciamo che poi potremmo considerare anche una forma quasi d'arte no pensiamo per esempio alle a tutte le le basiliche o alle opere d'arte che in italia riempiono le nostre città no l'architettura a cui si ispira georgia farrell è l'architettura quella cittadina l'architettura quella dei dei palazzi quella che è fatta di forme e colori e traduce queste forme e questi colori in in maglie o capi di abbigliamento possono essere sia accessori che che maglioni o giacche e come le traduce queste queste forme questi spessori questi colori dell'architettura delle città contemporanee abbinando insieme colori e texture diverse quindi attraverso un gioco di punti e di colori in qualche modo ricrea ora in queste immagini è difficile vedere però appunto se vedete per esempio la manica vedete che c'è una texture particolare ma insieme ci sono anche delle linee colorate che viaggiano lungo il capo e questa appunto questa idea di combinare insieme forme spessori quindi anche a livello tattile una sensazione diversa a me piace molto quindi da una parte i colori che danno appunto movimento dall'altra anche le texture che creano una dinamicità non solo appunto non solo visiva ma anche ma anche tattile e quindi questi modelli ce ne sono alcuni che mi piacciono moltissimo alcuni mi piacciono molto alcuni mi piacciono ma non li farei mai perché per esempio c'è questo questo cappotto lunghissimo che è molto molto bello ma io credo che impiegherei più o meno tre vite per realizzarlo e quindi è un progetto che non fa per me ci sono invece ecco progetti molto più abbordabili per me come ad esempio questo in cui c'è non si vede qui nell'immagine ma la parte blu è tipo fatto a canestro quindi ci sono dei quadrati che si intersecano questa parte qui è lavorata appunto che sembrano quasi delle scale che salgono delle scale di sicurezza e poi questo sfondo appunto quasi dei palazzi imbiancati ma non troppo non più troppo troppo nuovi ecco l'idea cioè le ispirazioni che la Farrer prende dall'architettura appunto architettura quella cittadina devo dire che mi affascinano mi affascinano molto nell'intervista che avevo visto lei faceva anche vedere alcuni bozzetti quindi di come da un'immagine di un scorcio cittadino quindi che può essere appunto un palazzo con a fianco un altro palazzo oppure un palazzo con uno spazio tra i due che quindi fa vedere una parte di cielo ricreava poi attraverso punti diversi e colori diversi i suoi i suoi capi i suoi maglioni e questo ad esempio questo gilet lo trovo stupendo comunque vi invito a vedere i progetti di questa di questa design perché devo dire che sono veramente molto piacevoli ora a me piace molto l'idea dell'architettura riletta in forma di maglia però anche se non si è affascinati da queste dimensioni un po' urbane sono comunque dei capi d'abbigliamento che giocano sul colore e giocano su tessiture di tipo diverso e quindi sono molto molto contenta di aver preso anche questo volume di modelli in tutto ci sono 10 modelli i filati appunto sono i filati della Rowan quindi non c'è neanche troppa difficoltà nel reperire i colori e il filato adatto non so se capita anche a voi che a volte vengono proposti dei modelli con dei filati che o sono fuori produzione oppure in Italia non arrivano quindi è difficile poi ottenerli e magari ci piace proprio quella sfumatura di colore perché sappiamo che poi ogni tintore e ogni azienda tinge con dei colori diversi quindi magari si possono trovare dei colori simili ma non è detto che siano esattamente gli stessi e magari ci piaceva proprio l'abbinamento di quei colori insieme e niente con questo è tutto io vi saluto vi ringrazio ancora moltissimo del tempo che mi dedicate vi ringrazio per tutti i commenti, i like che mi lasciate vi ringrazio chi si è iscritto al canale e il canale sta crescendo sta crescendo grazie al vostro supporto, al vostro sostegno e quindi continuo ancora a ringraziarvi e buona settimana a tutti